Siamo con Luciano De Monte, Generale Italia, insomma 2 a 2, hai vinto il premio come giocatore più corretto della partita, oltre a aver fatto una buona prestazione, insomma anche tu nominerci per essere il man of the match, poi l'abbiamo dato al portiere perché ho fatto tre parti e portiere avversario, tre parti pazzesche, però insomma vinci questo premio, complimenti per la bella prestazione, sei contento comunque per il pareggio? Sì, siamo partiti benissimo, mi è piaciuto lo spirito della squadra che dopo essere andato in svantaggio ha ripreso a giocare, siamo andati in vantaggio, peccato per il gol alla fine ma penso che sia un pareggio giusto perché comunque anche loro hanno giocato bene, una buona squadra e sono contento per il premio, il portiere loro meritatissimo, non posso dire nulla e niente, va bene così. Bene, grazie, complimenti. Grazie. Ciao.